Musica Buonasera e bentrovati per quest'ultima edizione con l'informazione regionale di Telemolise. In apertura sistema Iorio in tribunale deposizione fiume della direttrice di Telemolise, Manuela Petescia, sette ore di dichiarazioni spontanee davanti al giudice per l'udienza preliminare Teresina Pepe, tese a disarticolare le accuse della procura relative ad un presunto collegamento tra politica e informazione. Piena soddisfazione è stata espressa dal legale di Manuela Petescia all'avvocato Arturo Messere. Ma sentiamo il servizio di Pasquale Di Bello. Sistema Iorio in tribunale a Campobasso è stata la volta della direttrice di Telemolise, Manuela Petescia, che ha reso dichiarazioni spontanee per ben sette ore davanti al giudice per l'udienza preliminare Teresina Pepe e al procuratore della Repubblica Armando D'Alterio in rappresentanza della pubblica accusa. Oggetto dell'indagine della procura i presunti collegamenti tra mondo della politica e quello dell'informazione, un teorema che le dichiarazioni rese da Manuela Petescia hanno teso a disarticolare dimostrando al contrario la linearità e correttezza di ogni procedura riguardante i fatti e gli atti finiti sotto l'occhio degli inquirenti. La deposizione fiume della direttrice di Telemolise, il cui procedimento è stato stralciato dal troncone principale che vede imputati tra gli altri l'ex presidente della regione Iorio e l'ex dirigente dell'Agenzia di protezione civile Giuseppe Gianrusso, ha ricevuto la piena approvazione da parte dell'avvocato Arturo Messere, legale di Manuela Petescia, che ha commentato positivamente la lunga giornata in aula. Come è andata l'udienza preliminare? Mi pare che è andata bene, in quanto con le sue spontanee dichiarazioni la dottoressa Petescia ha spiegato come le fondi di prova apportate dall'ufficio del pubblico ministero non legittimano il vaglio dibattimentale per quanto la riguarda. All'esito delle sue conclusioni possiamo dire qualcosa di più. L'udienza è stata aggiornata sabato 19, in quella circostanza riprenderà sia l'esame dedicato al troncone principale dell'inchiesta, sia quello relativo alla prosecuzione delle dichiarazioni di Manuela Petescia. Sempre nella giornata di sabato dovrebbe aver luogo la discussione da parte dell'avvocato Messere. Il Molise è ancora in piena recessione con 4 famiglie su 10 a rischio povertà o rischio esclusione sociale. Quanto emerge dallo studio condotto dalla CISL sulla situazione economica del Molise, il quadro che viene fuori è davvero drammatico. Il servizio. In Molise 4 famiglie su 10 sono a rischio povertà o esclusione sociale. Il dato emerge dallo studio realizzato dalla CISL sulla situazione economica molisana. Il quadro che viene fuori è drammatico. Il Molise è la regione maggiormente colpita dalla recessione iniziata nel 2008 e che continua a far sentire i suoi effetti negativi ancora oggi. E nonostante la ripresa del prodotto interno lordo rilevata dall'Istat già a partire dal 2014, i sei anni di congiuntura economica negativa hanno lasciato il segno in un'economia già fragile come quella del Molise. Secondo la CISL i redditi dei molisani sono molto più bassi rispetto alla media nazionale, ma a preoccupare il divario che esiste tra gli stessi cittadini. Il 70% della popolazione non percepisce neppure il 40% del reddito regionale. Imprese sempre più in difficoltà a causa della brusca frenata della domanda interna e della flessione degli investimenti e molte aziende sane, dunque non solo quelle che erano già in crisi, non sono riuscite a superare un periodo di recessione così lungo e pesante. Settore produttivo e imprenditoriale la canna del gas con l'edilizia letteralmente in ginocchio che ha perso la metà degli addetti. E' scesa la cassa integrazione, si è dimezzata quella ordinaria e va esaurendosi la deroga, mentre si registra una vera e propria impennata nell'area di Campobasso. L'unico spiraglio rappresentato dall'occupazione che è tornata a salire, ma oggi, ha ricordato il sindacato, rispetto al 2008 mancano all'appello ancora 11.000 posti di lavoro, il tasso di attività ancora troppo distante da quella che è la media nazionale. Il Molise rimane ancora in coda alla graduatoria, detenendo dunque saldamente il triste primato di una regione ancora in piena recessione. Con la povertà che cresce, aggredisce un numero sempre maggiore di famiglie. Confronto sull'area di crisi domani a Campobasso, dalle 9.30 alla Sala della Costituzione della provincia, in programma un dibattito organizzato dalla CISL insieme ai sindacati di categoria nell'industria. Il tema scelto è area di crisi complessa, opportunità di rilancio per il territorio, sviluppo e occupazione. Le conclusioni saranno affidate al governatore Paolo Di Laura Frattura e al segretario nazionale della CISL, Gigi Petteni. Parliamo ora dell'inquinamento nella piana di Venafro, perché le mamme per la salute hanno diffidato la regione a firmare provvedimenti che possano peggiorare le condizioni ambientali in zona. È stata chiesta anche la dismissione dell'inceneritore di Pozzilli. Intanto i comitati si preparano una nuova manifestazione prevista per sabato pomeriggio. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Dopo gli appelli arriva una prima azione concreta per tentare di ottenere risposte certe e interventi che permettano di ridurre l'inquinamento nella piana di Venafro. Ci hanno pensato le mamme per la salute a mettere nero su bianco, indirizzando un atto di significazione, intimazione e diffida al presidente della regione Frattura, al presidente del Consiglio Cotugno e all'assessore all'ambiente Facciolla. Tra le richieste, quella di dismettere l'inceneritore di Pozzilli, di avviare subito gli esami delle matrici ambientali e della sommatoria degli inquinamenti, nonché uno studio epidemiologico delle popolazioni residenti. Nell'attesa dei risultati, le mamme per la salute, oltre a chiedere il sostegno dei sindaci, diffidano la regione a dare esecuzione a provvedimenti che possano aggravare le condizioni ambientali e la salute dei cittadini. Intanto, il Comitato contro le Camorre per sabato pomeriggio ha organizzato un'altra manifestazione. Durante un incontro a Esernia, il portavoce Izzo ha anche parlato dell'interrogazione parlamentare sulla questione inquinamento e rifiuti. Ma la novità è che il parlamentare è abruzzese, c'è la terra che ci regala i rifiuti. Questo veramente credo che sia un doppio, triplo schiaffo. L'altra novità è che in questa interrogazione viene richiamato anche il nostro assessore al ramo, cioè Facciolla, e lo richiama anche in modo abbastanza gustoso e significativo. La novità più importante resta questo momento collettivo di protesta. E noi veramente chiediamo a tutti di esserci, con le famiglie, con i bambini, con i cani, con la musica, con quello che vi pare. Nel piazzale di questo termo valorizzatore, che per noi è un ingeneritore, perché tale è di Pozzilli, porteremo sì la nostra festa, ma porteremo in modo particolare la nostra protesta forte, perché non accetteremo assolutamente né l'accordo fatto con l'Abruzzo e né che in quell'inceneritore si continui a bruciare. Un esperto ha inoltre spiegato perché, a suo avviso, la localizzazione dell'inceneritore di Pozzilli è stata sbagliata. In altri paesi, prima di stabilire la locazione di un termo valorizzatore, viene fatto un profondo studio sui venti, in modo che i fumi risultanti siano dispersi in genere verso il mare, in modo da non attingere alle popolazioni locali. Il Molise, essendo un'entroterra, non è una locazione adatta per questo tipo di impianti, perché siamo in una conca dove si tendono ad accumulare questi fumi. I parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e Andrea Cecconi saranno sabato pomeriggio a Campobasso. Alle 17.30 all'auditorium del Liceo Classico Mario Pagano per parlare della sanità molisana, su cui insieme a Giulia Grillo hanno presentato una interrogazione alla Camera indirizzata ai Ministri di Economia e Salute. In particolare vogliono avere informazioni sul progetto di interrogazione tra l'ospedale Cardarelli e la Fondazione Giovanni Paolo II. Chiedono in sostanza un intervento per ristabilire il principio che il privato accreditato debba essere complementare al pubblico e non sostituirsi adesso, come previsto invece nel piano frattura per le discipline di cardiologia e oncologia. Torniamo adesso alla giudiziaria, pena ridotta in appello ma condanna per tentato omicidio confermata. Sei anni di reclusione all'uomo che a busso accoltellò la sua compagna, il servizio di Giovanni Di Tota. Dovrà scontare la pena in un centro idoneo al suo stato psichiatrico, le sue condizioni di salute non sono compatibili con la detenzione in carcere. Dunque Massimiliano Cannata sarà accolto in un centro di cura in provincia di Avellino, dove passerà gli arresti domiciliari i prossimi anni. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Campobasso, che hanno confermato a suo carico la condanna per tentato omicidio, ma hanno ridotto la detenzione a sei anni. L'uomo l'anno scorso aveva tentato di ammazzare la sua compagna nella sua casa a busso. La donna, una bulgara che da anni si è stabilita nel paese dell'Interland campobassano, da tempo non sopportava più le continue angherie del convivente. La loro relazione era arrivata al capolinea e lei, Andrea, aveva deciso di metterci un punto e chiuderla lì. Massimiliano Cannata, servendosi di una scala, aveva sfondato la finestra della casa per entrare con la forza. Più di una coltellata le aveva inferto. Lei era riuscita miracolosamente a divincolarsi e a scappare, seppur ferita. In primo grado il tribunale di Campobasso aveva inflitto all'aggressore sette anni e due mesi di reclusione. La perizia, depositata dai medici del carcere di Via Cavour, ha avuto un peso rilevante sulla sentenza. L'impianto accusatorio è rimasto inalterato mentre le attenuanti sono state considerate prevalenti proprio a causa delle condizioni psicologiche dell'imputato. La sentenza è stata accolta con favore dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Fazio, e dal legale di Cannata, l'avvocato Angelo Piunno, che ha ottenuto la scarcerazione. La vittima è ancora alle prese con la riabilitazione per recuperare l'uso di un braccio leso da una delle coltellate. Lei ha scelto di restare a busso. È nel paese dove ha rischiato di morire, che vuole mettersi alle spalle questa storia e guardare a una nuova vita. Buone notizie per la Galleria di Belmonte, chiusa al traffico da quasi un anno. La provincia ha infatti assegnato i lavori a un'impresa di Trivento, l'obiettivo di mettere in sicurezza il tunnel in tempi brevi, anche per evitare altri incidenti lungo il percorso alternativo. L'ultimo si è verificato proprio questa mattina. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Ciò che si è sempre temuto è accaduto anche stamattina. Nella periferia di Belmonte del Sannio, un bus di linea proveniente da Castiglione e Messermarino si è scontrato con un'auto proprio all'altezza del bivio che mette sul percorso alternativo. Ad oggi unico collegamento tra Bruzzo e Molise che permette di aggirare la Galleria di Fonte Vallone, chiusa da quasi un anno. Fortunatamente si parla solo di qualche contusione, ma i disagi non sono mancati, visto che gli studenti sono arrivati con notevole ritardo ad Agnone. Ora però incidenti e preoccupazioni legate al tortuoso percorso alternativo dovrebbero finire. Se è vero che la Regione ci ha messo lo stesso tempo che occorre per partorire, per dare il via libera allo stanziamento dei fondi, è altrettanto vero che l'amministrazione provinciale di Sernia si sta impegnando al massimo per arrivare nel più breve tempo possibile alla riapertura della Galleria. I lavori sono stati infatti assegnati in via provvisoria a un'impresa di Trivento. Sono ora in corso le verifiche dei requisiti, mentre la settimana prossima il Consiglio provinciale istituirà l'apposito capitolo di bilancio. L'obiettivo, tempi tecnici permettendo, è quello di arrivare all'aggiudicazione e all'assegnazione definitiva dei lavori nel giro di tre settimane. Per i pendolari, che ogni giorno fanno la spola tra Alto Vastese e Alto Molise, i disagi dovrebbero finire entro la fine della primavera. E scontro al comune di Campobasso sulle perimetrazioni in Lucarino. L'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione e a chiedere le dimissioni dell'assessore Chierchia. La replica del sindaco Battista, c'è bisogno di regole. Il servizio di Anna Maria Di Matteo. A comune di Campobasso tiene banco la polemica innescata dalle opposizioni sulle perimetrazioni Lucarino, una vicenda che si trascina da anni e che interessa centinaia di contribuenti di Campobasso. A scatenare le critiche, la decisione dell'amministrazione comunale di aggiornare la perimetrazione che riguarda 12 zone periferiche. Sì, è stata approvata qualche giorno fa una delibera di Consiglio comunale che non ci convince affatto, che ha visto la nostra contrarietà nelle sedi preposte. L'abbiamo contrastata sia per la forma sia per la sostanza. Per la forma perché è un atto che andava fatto con variante, perché è una variante di piano vera e propria, più che un aggiornamento. Quindi contestiamo l'impianto dell'atto deliberativo. E nella sostanza perché ha inserito una serie di parametri, come il lotto virtuale, che non ci vede affatto convinti. Si crea un mercato tra privati anche poco chiaro che non ha mai portato a nulla di buono. Questo avrà la conseguenza di avere una serie di ricorsi da parte dei cittadini per cui scontenta tutte le categorie. Sono state fatte delle perimetrazioni che hanno cambiato, se vogliamo, la destinazione di un territorio. Alcune zone da agricole sono diventate residenziali e viceversa. Non c'è stato un ricalcolo di parametri edificatori all'interno delle semplici aree, ma c'è stata una vera e proprio ridisegnata l'area, questo creando serie difficoltà progettuali in un certo senso. Anche i cittadini che hanno sanato alcune posizioni oggi si vedono fuori da determinati discorsi. Dall'amministrazione comunale il sindaco Battista ha parlato di necessità di introdurre la cultura delle regole. Si continua a far rumore parlando della realizzazione di palazzine di sei piani in zona agricola quando ciò non corrisponde al vero, ha dichiarato. Si parla di commissariamenti che nulla hanno a che vedere con la delibera del febbraio 2016, ma che riguardano inadempienze tecniche della struttura già peraltro individuate. La verità, ha concluso il sindaco, è che questa amministrazione si sta muovendo cercando di realizzare ciò che richiede una grande fatica, non soltanto il recupero urbanistico ed edilizio, ma una vera e propria ricucitura culturale di regole condivise e di promozione del bene comune. L'assessore Chierchi ha avuto due commissariamenti sull'articolo 14, ne tragga le conseguenze. Se anche nel merito avremo dei risultati che controvertono ciò che ha deciso l'amministrazione, le deve prendere l'atto e prima che presentiamo noi una mozione di sfiducia consegnasse lei, insomma, rimettesse nelle mani del sindaco il suo incarico. Il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti ha puntato il dito contro la cattiva gestione dei servizi sanitari che finisce per scaricarsi sulle spalle delle imprese con aumenti continui di IRAP e IRPEF. La batosta maggiore è stato evidenziato, la ricevono le microimprese della Campania che tra IRAP e addizionale regionale IRPEF versano in media 7.224 euro l'anno. A breve distanza seguono i piccoli imprenditori della Calabria con 7.145 euro l'anno e del Molise con 7.047 euro l'anno. Domani pomeriggio l'Ordine degli Avvocati di Campobasso ospiterà il coordinamento nazionale dei presidenti distrittuali e delle unioni interregionali. Per l'occasione si terrà un'assemblea aperta al Comitato Unitario per la salvaguardia della Corte d'Appello e si affronterà il tema della geografia giudiziaria alla luce anche di quanto emerso dalla Commissione Vietti. L'assemblea si terrà dalle 17.45 alle 19.30 al Centrum Palace di Campobasso con l'obiettivo di far ottenere al Comitato il sostegno anche dell'Avvocatura nazionale. Intanto anche il Comune di Busso con delibera di consiglio ha aderito al Comitato per la salvaguardia della Corte d'Appello molisana. C'è fermento nei tre comuni del Basso Molise che prima dell'estate rinnoveranno i consigli comunali. I sindaci di Porto Cannone e San Giacomo ci riprovano quello di Ururi invece ha deciso di non ricandidarsi. Vediamo il servizio. Sono tre i comuni del Basso Molise che si preparano al rinnovo dei consigli comunali Porto Cannone, Ururi e San Giacomo. La data delle amministrative ancora non c'è ma la giornata di votazioni dovrebbe essere quella del 12 giugno. A Porto Cannone il sindaco uscente Luigi Mascio da dieci anni alla guida del centro ci riprova. C'è ora la possibilità di ricandidarsi per la terza volta consecutiva grazie alla legge del Rio dell'aprile 2014. Una norma che oltre a dare il via libera al terzo mandato per sindaci al di sotto dei 3.000 abitanti modifica anche la composizione consigliare. Per Porto Cannone, Comune sotto i 3.000 abitanti il nuovo consiglio comunale sarà composto dal sindaco 10 consiglieri e massimo due assessori. Mascio, 53 anni e dipendente di banca ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa che è passata anche per la presidenza del COSIB. A sfidarlo un altro bancario, Giuseppe Caporicci 41 anni, volto nuovo per la politica e che sta mettendo su una lista civica che a suo dire non ha connotazioni politiche. Il giovane sfidante ha nei giorni scorsi inaugurato la sede elettorale della lista che si chiamerà Con il cuore per Porto Cannone. Anche a San Giacomo degli Schiavoni il sindaco uscente Rino Bucci, 55 anni, tenta il bis, ritenendo di aver lavorato bene in questi anni. A sfidarlo sarà Costanzo della Porta, 40 anni di professione avvocato. Portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, il giovane legale sta mettendo in piedi una lista civica senza bandiere politiche e in cui confluiranno cittadini che sposeranno un progetto per il paese. Ancora incerta la situazione invece a Ururi, dove il sindaco uscente Luigi Plescia avrebbe deciso di non ricandidarsi. Il suo successore però per il momento è ancora un mistero. Sull'altro versante è molto probabile la corsa alla poltrona di Antonio Cocco che già ha ricoperto la carica prima del mandato di Plescia. Nel paesino però circolano voci sull'esistenza di una terza lista, voci che però finora non hanno trovato ufficialità con il nome di un candidato. Una delegazione delle regioni italiane è attesa questa sera in Tunisia per una serie di incontri istituzionali. Scopo della missione? Il sostegno del processo democratico e di sviluppo economico del paese del Maghreb tramite la collaborazione con le amministrazioni centrali e locali tunisine alla vigilia del primo anniversario dell'attentato al Bardo avvenuto il 18 marzo 2015 nel quale morirono anche quattro italiani. In quell'occasione riuscirono a salvarsi anche alcuni croceristi che erano partiti da Boiano per le vacanze a Tunisi. In rappresentanza del Molise ci sarà Pasquale Passarelli delegato della Presidenza della Regione. E sono state presentate a Campobasso al Circolo Sannitico le giornate di primavera FAI in Molise alla ventiquattresima edizione. Sentiamo Tonino Danese. Un'occasione per scoprire luoghi che di solito sono chiusi al pubblico palazzi, musei, castelli, aree archeologiche oltre 900 luoghi di cultura aperti in tutta Italia con contributo libero sabato e domenica per le giornate di primavera organizzate dal FAI Fondo Ambiente Italiano edizione numero 24 anche in Molise a orari stabiliti sabato mattina e domenica pure il pomeriggio possibile visitare a Campobasso Palazzo Cannavina Casa Trombetta il Circolo Sannitico all'interno una mostra di parapendio dell'aereo club I Picchi il convitto Mario Pagano Piazzetta Palombo il Palazzo della Banca d'Italia la stazione ferroviaria visitabili anche i castelli di Civita Campomarano Gamba Tesa Macchia di Sernia Monte Roduni a Isernia i palazzi Laurelli e Petrecca una delle caratteristiche però sarà quella di poter visitare ambienti privati quindi castelli o palazzi nobiliari che in genere proprio perché private non è possibile visitare le offerte che noi diamo sono diverse tutte in molti casi grazie agli apprendisti Cicerone quindi ai ragazzi che durante il loro percorso di studio adottano il bene per poi presentarlo ai visitatori sia sabato che domenica a Disernia partiamo già da venerdì le visite guidate dunque a cura di apprendisti Ciceroni che saranno gli alunni di diverse scuole obiettivo dell'iniziativa avvicinare la gente ai beni culturali siamo convinti che la consapevolezza del bene conoscere il bene porta quasi in automatico alla tutela perché la persona capisce qual è il valore del bene stesso e quindi soprattutto per il futuro per le future generazioni il bene dovrebbe essere tutelato e poi abbiamo anche un secondo fine che è quello di avere volontari che ci danno una mano per gli anni successivi le giornate di primavera fa in Molise sono state presentate al circolo sannitico di Campobasso al cui interno domenica ci saranno letture per bimbi a cura dell'associazione bibliotecari d'Italia il conservatorio Perosi si è messo a disposizione per l'esecuzione di Brani alla stazione di Campobasso sabato e nel castello di Macchia di Sernia domenica e il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha annunciato nel corso della presentazione delle giornate di primavera fa il progetto di realizzare nel circolo sannitico uno sportello turistico per valorizzare il patrimonio cittadino promuovendo percorsi artistico culturali al via il primo appuntamento della rassegna gezzistica Campobasso Soul Beat Festival ad esibirsi sul palco del Teatro Savoia il quartetto capeggiato dal sassofonista americano Jerry Weldon accompagnato dal molisano Daniele Cordisco ci dice di più in questo servizio Silvia Valente venerdì sera alle 21 al Teatro Savoia primo appuntamento della ricca rassegna gezzistica inclusa nel programma del Campobasso Soul Beat Festival rassegna organizzata dal Lady Lang Jets Festival con il contributo dell'amministrazione comunale di Campobasso e della fondazione Molise Cultura di scena al Savoia il sassofonista americano Jerry Weldon musicista inesauribile di straordinaria potenza dopo i trascorsi nell'orchestra di Lionel Hampton Jerry Weldon ha collaborato con autentici mostri sacri della scena gezzistica internazionale primo fra tutti il leggendario organista Joy De Francesco con il quale Weldon può vantare un lungo sodalizio segnato da fraterna amicizia maiuscole le sue prestazioni al fianco di altri organisti di valore storico come Dr. Lonnie Smith Jack McDuff Jimmy McGriff ed i giganti del pianoforte come Cedar Welton e George Cables altrettanto notevole la militanza nell'orchestra di Harry Connick Jr in una carriera che ha visto Jerry Weldon sempre richiestissimo per la sua generosità il suo swing e una tecnica di qualità sopraffina nel quartetto di Jerry Weldon di Scenal Savoia spicca la presenza del molisano Daniele Cordisco chitarrista di nuova generazione che ha ormai guadagnato una sua precisa collocazione nel panorama gezzistico italiano l'appuntamento è per venerdì sera al Teatro Savoia concerto alle 21 botteghini aperti dalle 19 torna Pasqua in Cioc un appuntamento all'insegna della dolcezza e di tante golosità a base di cioccolato l'evento si svolge in Piazza Municipio a Campobasso fino a domenica ci dice tutto Valeria Farina fondente a latte bianca e aromatizzata è la cioccolata protagonista di Pasqua in Cioc una quattro giorni all'insegna della dolcezza di sapori ricercati e di tante novità da oggi fino a domenica Campobasso spiterà la seconda edizione della Kermess dedicata al cioccolato quattro giorni ricchi di percorsi e di momenti con il gusto dove oltre alle degustazioni e ai laboratori di lavorazione del cacao ci saranno anche spettacoli tra i fornelli si parte oggi con l'inaugurazione degli stand che propongono cioccolata di tutti i tipi e di tutta Italia con i maestri cioccolatieri provenienti da tutta la penisola per poi entrare nel vivo della manifestazione da sabato con degustazioni interessanti e particolari come quella del conubio di vino e cioccolato e poi domenica con lo show tra i fornelli dello chef Angelo Pagano novità assoluta della manifestazione sarà lo show cooking un percorso di cucina interattivo al termine del quale verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza il cioccolato piace insomma non solo a bambini ma ovviamente anche agli adulti abbiamo invitato cioccolatieri da tutta Italia siamo molto soddisfatti perché è stato proprio il comune di Campobasso a richiederci questa manifestazione per probabilmente per addolcire un po' la città in questo tema insomma di festività pasquali e come dicevo cioccolatieri da tutta Italia la novità di quest'anno è uno show cooking e poi avremo tantissime altre attività che faremo l'evento dopo il successo di ottobre è stato riproposto con entusiasmo dalla confesa ercenti dal comune di Campobasso e dall'assessorato alle attività produttive per regalare a Campobasso e a tutti coloro che parteciperanno un fine settimana ricco di dolcezza e di novità alla vigilia di Pasqua festa in cui il cioccolato non manca mai la manifestazione si svolgerà in piazza Municipio da oggi fino a domenica pensiamo che sia una cosa bella una cosa da proporre alla cittadinanza di Campobasso sarà allietata da una casetta live di alcuni artisti locali una casetta live che è stata anche a Sanremo il mio ringraziamento va sia al Presidente Oriente e in maniera particolare Anna Valente e anche all'organizzatore che è Colella perché sembra semplice a cose fatte però organizzare in qualche cosa che non vada in conflitto con gli operatori del commercio sotto Pasqua cioè evitare la vinta di uova oppure di determinato cioccolato che potrebbe essere in questo momento di crisi economica di urto con i miei commercianti locali abbiamo cercato di trovare un punto d'incontro ed era questa l'ultima notizia grazie per averci seguito vi auguro la buonanotte grazie per averci seguito